Ueeh, non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Ueeh, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi, mamma mia, ma quante novità sono arrivate in un'unica patch silenziosa! Stiamo parlando ovviamente della 9.30 asterisco, che poi è un cancelletto 1 ragazzi, quindi il primo update dove il team di Epic Games ovviamente non è presente per tenerlo monitorato, un sacco di armi rientrate in game sia per tempo indeterminato che per poco tempo, le 14 giorni di Fortnite e anche tante novità a livello morfologico della mappa. Nel video di oggi approfondiremo un attimo questa patch in modo da vedere delle modifiche che forse vi siete persi, ma ragazzi approfondiremo invece il mistero del vulcano. Una cosa incredibile, una parte fondamentale dell'evento Cactus Doggus che arriverà probabilmente al rientro dello staff di Epic Games e quindi al chiudere della season numero 9 e una montagna di leaks se avrò tempo di farveli vedere ragazzi tanta tanta roba. Ma prima volevo ringraziare tutti coloro che utilizzano il mio codice creator XIODERONE. Grazie di cuore ragazzi per sostenermi nello shop sciopazzando di prepotenza, mi raccomando iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live. Ma prima devo fare la domandina raga, la domandina mi state rispondendo in tantissimi in questi giorni i vostri commenti qua sotto, domanda molto interessante. Ma qual è la tua skin preferita tra quelle che arriveranno nella 14 giorni d'estate di Fortnite. Ce ne sono tantissime, abbiamo già visto la versione estiva di Alla Deriva ragazzi lo Yeti, il Bigfoot, la mia, è il Bigfoot, quello che c'è sopra di là sdraiato al contrario, no mi piace c'è anche il fenicottero che non è male, ma il Bigfoot secondo me è tanta tanta roba staremo a vedere poi come sarà in game in questi giorni. Ma quindi, ciancio alle bande e bando alle ciance, andiamo subito subito ragazzi a vedere l'immagine principale di questa patch notes 9.30 che è ovviamente l'introduzione del nuovo revolver, la pistola che spara sei colpi nel caricatore e che si trova in rarità epica e leggendaria. Ma non è ovviamente ragazzi l'unica modifica di questo aggiornamento arriva e rimane il pompa del nonno ragazzi ce lo riportano in game, non verrà tolto, dicono esattamente abbiamo ricevuto molti commenti sull'efficacia del fucile pesante tattico e del fucile pesante da combattimento quindi vorremmo fare qualche esperimento in modo in cui il fucile a pompa completi la gamma di fucili pesanti. Vediamo un pochettino se riusciranno a tenerlo io spero davvero che non lo tolgano più e che non facciano più questa grande cagata ma ritornano anche le granate esplosive, quelle viola per chi non se ne ricorda la mitraglia silenziata rimarrà in game il revolver ragazzi quello classico, il revolver OG, mentre invece troveremo giorno per giorno armi che verranno inserite ed eliminate dopo 24 ore ieri c'è stato il mitraglione da 100 colpi, oggi staremo a vedere ragazzi ma la cosa molto interessante è una modifica che forse non sapete che è stata fatta ai lama, quelli che si trovano in game innanzitutto per ogni mappa non ci saranno più tre lama ma ce ne saranno cinque e tra l'altro ogni lama adesso non darà più 200 di materiale ma ne darà 350 apprezzo tantissimo, queste modifiche, si sono parati il culo, si sono parati il culo rimettendo dietro perché c'hanno la caga che quando non sono dietro al gioco lo so io lo so comunque va bene, comunque va bene ragazzi modifiche anche nella modalità creativa, arrivano i prefabbricati e le gallerie di Kevin in realtà è solo in questa modalità, modifiche anche per quanto riguarda alcuni dettagli sulle armi tipo la pistola a fucile, hanno ridotto la disponibilità nel bottino a terra da 1,97% a 1,23%, mitragliatrici hanno aumentato i danni da 18-19% a 20-21% e anche modifiche sulla pistola a tamburo, la Thompson dove il caricatore è stato ridotto da 50 a 40 e la cadenza di tiro ridotta da 9 a 8 insomma ragazzi modifiche davvero molto interessanti, alcune positive, altre un po' meno che ci accompagnano nella settimana in corso di questa settimana numero 8 ma andiamo avanti ragazzi ed è lui, è sempre lui quando bisogna parlare di eventi in game eventi ufficiali, il signor Donald Mostarda ragazzi, lui il capoccione, il direttore generale del team grafico di Epic Games, del team in generale, cambia la sua posizione ragazzi era beach fino a qualche giorno fa e adesso è preparing quindi preparando, si stanno preparando ragazzi e a che cosa? Non lo sappiamo, probabilmente all'evento tra cui ragazzi, nelle preparazioni si vede anche questa modifica incredibile, voglio farvi vedere però un gameplay assurdo che forse non tutti hanno visto ragazzi datemi due secondi, intanto stiamo parlando ovviamente dell'impianto a pressione presente nel vulcano e la cosa davvero pazzesca è che non c'è più la lava ragazzi hanno aspirato la lava è una cosa incredibile se ci pensate un secondo cioè togliere la lava non è proprio come togliere un mucchio di foglie da un giardino parliamoci chiaro, ci sono delle immagini davvero molto belle di questo impianto a pressione che ha lasciato me personalmente spiazzato perché ora c'è un vasto spazio vuoto la domanda è, ma chi non ha preso la stella della settimana scorsa? ma come cavolo fa a prenderla adesso che non c'è più in comunque magari è ancora in quella posizione io non ne ho idea e ragazzi abbiamo un gameplay del nuovo impianto a pressione che non si chiama più così aperto vediamoli insieme ragazzi perché è davvero molto molto interessante eccolo qua assurdo assurdo ragazzi come vedete le due enormi porte sono totalmente aperte e dentro c'è uno sprofondo incredibile penso che siano almeno 10-15 metri più o meno visto in base all'altezza del personaggio quattro enormi eliche che non sappiamo ancora quale sia la loro funzione e dei settori segnati sul muro B1, B2 e B3 probabilmente dovranno magari ancora costruirci qualcosa non lo sappiamo c'è da dire che è veramente imponente e mastodontico vederlo in questa posizione ragazzi non che molto molto interessante staremo ovviamente a vedere che cosa ci dovremo aspettare per il futuro tanta roba ragazzi ed ecco qua l'ultima notizia di oggi una delle più incredibili relative all'evento Cattus Dogus praticamente stiamo cercando un po' di è partito tutto da picco polare dove c'era l'occhio gigante poi è andato via al mostro con sopra il castello dopo pochi giorni è apparso nel mare dopo altri giorni è uscito da dietro spiagge ha abbattuto la villa moderna di spiagge ha abbattuto la villa moderna di parco pacifico ha abbattuto le fabbriche a sponde del saccheggio danneggiando anche i cavi elettrici queste immagini sono state inserite nella patch 9.30 di ieri mattina e come vedete si vedono tre spot enormi il primo dice when danger strikes get the ground quindi quando il problema è imminente prendi l'altezza duck and hover l'immagine numero 2 che riprende il jetpack raga non lo so e la numero 3 che è un'immagine del team leader l'orso acchiotto nella classica posa del woman power quindi le donne con il braccio tirato su la forza lavoro delle donne che dice we can build it noi possiamo costruire quindi ragazzi possiamo costruirlo ragazzi le notizie continuano ad arrivare è difficile riuscire a mettere tutti i puzzle in modo da fermare tutti i pezzi per formare il puzzle ma ci proviamo sempre io vi ringrazio tantissimo intanto vi faccio vedere un'immagine del gioco di come è l'impianto a pressione vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo tra poco in live ciao 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 Grazie a tutti.